Marco Colombro ha annunciato di non voler più lavorare in televisione, un settore che lo ha visto protagonista soprattutto negli anni 90. Questa decisione arriva dopo un periodo di assenza dai riflettori, durante il quale si è dedicato ad altre attività. In un'intervista rilasciata insieme a Lorella Cuccarini, ha espresso il desiderio di dedicarsi a nuove esperienze, lasciandosi alle spalle la sua carriera televisiva. Ha menzionato di aver sofferto per la televisione, dicendo «Dopo la malattia per la televisione sono morto, mi sono dedicato al teatro, della mia azienda di biologico e del mio resort in Toscana». L'annuncio del suo addio alla televisione ha colpito profondamente Lorella Cuccarini, sua amica e compagna di numerose avventure televisive. La sua decisione segna la fine di un'era per la televisione italiana, in cui Colombro è stato una figura di spicco.